è già arrivato qualcuno e quindi sicuramente devo finire la mia puntata perché sennò mi cacciano proprio allora, volevo ancora dirvi qualcosa su qualche altro piatto della Colombia e aspettate un attimo perché, aspettate un attimo perché, 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 ecco Lala perché, perché, perché è ora che te ne vada e io volevo parlare dei cicciarrones carnudos e parla ma... carnudos 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 con la... senti carnudos, cerchiamo di stringere sai cosa sono i cicciarrones carnudos? non so cosa sono i cicciarrones ma tu sei cicciarona nel senso che chiacchieri molto è un piatto tipico, è un piatto tipico della regione delle Ande della chiacchierona esatto la feperona della panna è il cicciarron carnudo, non con la O la pancia fresca di maiale è lessata in acqua salata e poi si frigge e si fanno questi cicciarron con questo... un rumorino così perché diventa croccante sto cicciarron, capisci? e quindi poi viene servito con lime e un piccolo panino bianco di forma circolare preparato con farina di mais che si chiama arepa io non so, non vorrei confondere ma io mi ricordo la molleca argentina molleca 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 la molleca te ricordi eh? te ricordas? mi ricordo molto bene, mi ricordo molto ricca la molleca argentina che comì qualche... 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 un pochino di anni... vabbè qualche anni altra in Buenos Aires in casa dei miei hermanitos tus hermanitos argentinos adottados e fu un'esperienza unica io mi ricordo che avevo portato la Wheaton l'avevo portata al supermercato questa è la mogeca, quando l'ha visto ho detto io quella non me la mangio e poi l'hanno servita alla griglia che pure che sta qua poi l'ho detto quello che hai visto al supermercato crudo va bene allora io volevo parlare di altre cose di Colombia però mi stai cacciando via no finisci finisci mai vorrei interrompere questo questo tuo discursus così ti viene anche voglia di mangiare ma io almeno ho due ore e mezza ancora d'attesa così soffri come soffrivo anch'io esatto quando avevo fame c'è il cistino di fritti colombiani questo si fa sulla costa caraibica della Colombia che lì puoi trovare anche le empanadas che conosci, fritte però a fritte però sono fatti di marina di mais farina di mais di marina di mais marina di mais stiamo straparlando stiamo straparlando perché mi stai creando confusione esatto sono le ricuerdos sono le ricuerdos sono le ricuerdos che llegan e talves confunden esatto senti che slang che ho detto stasera mamma mia veramente senti io farei che la lasciamo così perché è arrivato il momento di salutarci e quindi io e che c'è qui Claudia Vittone che mi sta cacciando via perché deve andare a fare alziamo le vibrazioni e io me ne vo quindi pur un pampero finisce qui però ci incontriamo tra poco no giovedì io giovedì giovedì dalle sedici con me no tra poco contenta perché va bene carissimi è stato veramente un piacere vi saluto vi abbraccio a tutti quanti e ci incontriamo giovedì alle sedici vi lascio in bella compagnia con Claudia Vittone alziamo le vibrazioni ciao ciao Radio Antenna 1 la radio più popolare